Avete immediatamente preso le distanze e stigmatizzato quanto detto dal candidato consigliere comunale di Torremaggiore? Guardi, la cosa allucinante è che questa persona era un aspirante candidato, uno che si sarebbe voluto candidare e la sinistra e i 5 Stelle hanno colto al balzo questa provocazione di una chat personale per fare politica. Purtroppo questa persona non era proprio nella nostra lista e quindi noi comunque prendiamo atto delle menzogne della sinistra e dei 5 Stelle e andiamo avanti. Voi avviate la campagna per l'Europa, la campagna particolare che mette un po' alla prova e monitora la situazione. Ma Fratelli d'Italia Capitanata va bene. Stiamo lavorando bene, stiamo cercando di far crescere il partito radicandolo in tutti i comuni della provincia di Foggia. Noi stiamo cercando di lavorare con tranquillità, stiamo vedendo quello che sta succedendo a Bari, sia al Comune che alla Regione, con i 5 Stelle che avevano una propria candidata presidente dalla Ricchia e poi il giorno dopo sono andati ad appoggiare Emiliano. Il nuovo della politica si sta dimostrando essere il peggio del peggio rispetto al vecchio.